I suoi esordi a Cremone ha fatto anche lei il provino San Sigismondo, Federale, Campopo, quando l'ha preso la Cremonese? No, ho fatto un provino, poi sono andato a giocare con il pizzighettone e la Cremonese mi ha visto giocare con il pizzighettone e mi ha acquistato per una cinquantina di palloni, due sarani e duecentomila lire. Grazie, ciao.